A pochi giorni dall'inizio della primavera la città di Gabice Mare accoglie la nascita di una nuova associazione che punta a valorizzare, che punta a dare un salto di qualità al turismo del territorio. Si chiama Assotel Confesercenti Gabice Mare ed è la prima volta che Assotel ha una sua realtà associativa proprio nella città di Gabice. Una neonata associazione che conta 35 alberghi, il 60% della capacità ricettiva del comune costiero più settentrionale delle Marche per circa 1.600 camere d'albergo di Gabice. Albergatori gabicesi che erano presenti oggi qui al centro civico Creobicce dove è stato dato il battesimo alla neonata associazione. Sono veramente fiero di presentare oggi la nascita di questa nuova associazione per Gabice. prima non c'era, non ce l'avevamo, non c'era niente. In realtà nel momento in cui abbiamo conosciuto i nostri nuovi associati è una realtà veramente importante perché parliamo di 35 strutture alberghiere e oltre il 60% di capacità ricettiva della città. ci siamo piaciuti, abbiamo un'identità di vedute, ci siamo incontrati anche per quello che riguarda idee e progetti, la valorizzazione anche del territorio in tutte le sue forme e sono veramente fiero oggi di annunciare la nascita di questa nuova associazione per Gabice che secondo me porterà alla città veramente un'avventata di freschezza perché abbiamo e hanno soprattutto insieme a Confesercenti gli operatori gran voglia di lavorare, di far bene e di creare un mondo nuovo. A dare il benvenuto ad Assotel Confesercenti Gabice Mare anche il presidente nazionale di Assotel Vittorio Messina in collegamento da remoto presente invece il presidente provinciale di Confesercenti Pier Stefano Fiorelli ad accogliere un'associazione che ha nominato come presidente Francesco Ceccarelli che ha anticipato alcuni progetti di questo nuovo sodalizio in particolare si punta a destagionalizzare la stagione turistica oltre il periodo estivo e a puntare forte sul vicino Parco San Bartolo. Abbiamo fatto un'analisi già da tre anni da quando abbiamo costituito la nuova associazione Welcome to Gabice che è composta da 32 albergatori gabicesi e abbiamo temporeggiato questi anni un po' particolari per cercare di trovare la soluzione migliore che potesse seguire le esigenze del nostro gruppo. Abbiamo già in progetto di sviluppare delle attività insieme a Tour Operator per riattivare un pochino i canali di flussi per quello che riguarda i turisti non solo nei tre mesi estivi ma anche nei mesi primaverili vicini all'estate per allungare per quel che si può piano piano il periodo di apertura delle strutture. Grazie. Grazie.